Ciao, io sono Roberto Grossale e sono praticamente l'amministratore delegato di RiaCommerce che è questa nostra azienda dove produciamo diverse tipologie di linee e di prodotti. Praticamente siamo qui al Vapitali perché è la fiera più importante di livello internazionale. Quest'anno abbiamo portato questi nostri nuovi prodotti che sono praticamente i nuovi pistacchio e naturalmente produciamo una multitudine di linee di prodotti volti al vaping. Quest'anno al Vapitali 2024 abbiamo presentato questi nuovi quattro prodotti. Saranno i nostri nuovi prodotti di punta da qui ad arrivare fino all'inverno a base di pistacchio, pistacchio e tabacco, un popcorn al pistacchio e pistacchio semplice. Potete trovare questi nuovi prodotti in diversi shop in Italia, quindi ricercateli, provateli e fateci sapere cosa ne pensate e come vi siete trovati.